Gentili telespettatori, buona giornata. L'Italia vola letteralmente negli ascolti tv. 18 milioni collegati davanti ai teleschermi per la vittoria del nazionale. 18 milioni di persone che nessuna ragione al mondo avrebbe potuto farli allontanare dallo schermo televisivo. Con 18 milioni e 172 mila telespettatori e il 73,68% di share, la partita Italia-Inghilterra con la vittoria degli azzurri agli europei 2020 trasmessa da Rai 1 ha stravinto gli ascolti della prima serata dell'altra sera. Gli altri programmi si sono dovuti accontentare di poche briciole che con dati di share che non arrivavano neppure al 2%. Infatti su Canale 5, Vittoria e Abdul ha ottenuto 388 mila telespettatori e l'1,56%. Su Rai 2, Amore Cucina e Curry ha totalizzato 360 mila telespettatori, con l'1,45. Su Rete 4, la mia Africa ha registrato 276 mila telespettatori e l'1,15. Su Rai 3, i segreti di Osage Conti, è stato visto da 237 mila telespettatori, pari allo 0,95%. Su Italia 1, la fidanzata di papà ha interessato 233 mila telespettatori con lo 0,94%. Sulla 7, Face to Face, Lady Di contro Elisabetta II ha ottenuto 195 mila telespettatori con lo 0,78%. Su 9, Supernanni ha conquistato 82 mila telespettatori e lo 0,3%. Su TV8, infine Earthbreakers Vizio di Famiglia ha segnato lo 0,29% di share e 76 mila telespettatori. Così, a questi livelli ho più spettatori io su Teleitalia che tutti questi programmi, no? Eh vabbè. A parte gli scherzi, numeri assolutamente incredibili. Nel daytime pomeridiano, grande successo per TV8 che grazie alla finale del torneo di tennis di Wimbledon, Berrettini-Djokovic ha segnato il 20,7% di share con 2 milioni 862 mila telespettatori. Nella Chess Prime Time, tutte queste parole in inglese che mi fanno discretamente arrabbiare, la partita della Nazionale ha magnetizzato la quasi totalità della platea televisiva, lasciando al secondo classificato, Canale 5, con paperissima sprint, 861 mila telespettatori e il 3,9% di share. Nel complesso le reti RAI hanno stravinto tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata con 17 milioni 279 mila telespettatori e il 73,02% di share. La seconda serata con il 74,62% e 12 milioni 478 mila telespettatori e l'intera giornata con 5 milioni 437 mila telespettatori e il 50,5% di share. Però mi viene a dare a dire, vi piace vincere facile, eh? Ecco, con la finale del campionato europeo, con l'Italia-Wembley, mi sembra vincere. E poi stiamo lì a guardare chi vince, chi perde. Vabbè che le televisioni, il loro business è fatto da questo, eh? Competere con le altre televisioni per avere pubblicità più pagate. Però, insomma, andare a competere con la finale degli europei dove gioca l'Italia in prima serata alle 9 è ridicolo. Ecco, scusate se è poco, scusate se è poco, ma è assolutamente ridicolo. Ma intanto la pasta asciutta di Bonucci arriva nel ristorante a Wembley, il locale davanti allo stadio, locale italiano, bella idea di Leo, bella idea di Leo. Si potrebbe chiamare after match special, la pasta asciutta di Bonucci, in onore del difensore della nazionale che ieri sera per zettire i tifosi inglesi, dopo la vittoria dell'Italia europea, ha detto ne dovete mangiare ancora di pasta asciutta. Beh, un piatto ad hoc, una bella idea per ricordare la vittoria italiana, ma credo che gli inglesi forse non saranno poi così contenti di andare nel locale italiano a mangiare la pasta asciutta di Bonucci che praticamente dice agli inglesi ne dovete mangiare ancora di pasta. Non mi sembra una grande ideona questa, forse più una buttata lì pubblicitaria. Vabbè, comunque sia, comunque sia, il ristorante si chiama Pasta Remoli Wembley Park di Simone Remoli, fondatore di Pasta Remoli Holding. Il locale si trova proprio di fronte allo stadio di Wembley e alla DN Kronos Remoli racconta che molti dei core di tifosi inglesi erano rivolti proprio verso il suo ristorante. Ma dai, ma come verso il ristorante? Insomma, riguardati caro Remoli perché gli inglesi non li ho visti molto democratici, non li ho visti molto per la quale. Si sono tolti la medaglia, hanno calpestato la bandierità. Hanno fatto di quelle cose che io, se fossi nel principe che guardava la partita, mi sarei decisamente vergognato. Ma non per aver perso la partita, ma per il comportamento dei connazionali. insomma, hanno fatto cori anche contro i tortellini dentro lo stadio di Wembley. Hanno fatto cori per tutta la partita con riferimento ai tortellini. Era un coro, dice, iniziato fuori dallo stadio e diretto verso di noi, verso il nostro ristorante che sta proprio davanti alle scale dello stadio di Wembley. Un coro che è continuato dentro lo stadio e che è stato concluso da Bonucci. Racconteremmoli che afferma noi italiani ci siamo un po' aiutati a distanza. Beh, insomma, poetica questa cosa, poetica. Dice, io sono romanista, quindi a livello agonistico con Bonucci siamo acerrimi nemici, ma ieri giocavano tutti per la mia squadra, la nostra nazionale, e la sua frase sulla pasta è stata perfetta. Nel suo ristorante, Remoli, offre diversi tipi di pasta fresca che cuochi italiani producono tutti i giorni, da abbinare a diverse salse e formaggi. Ora resta solo da decidere la combinazione vincente in onore degli europei, perché la pasta è meglio del fish and chips e anche dei tortellini, scherza Remoli. Beh, insomma, caro Remoli, ti sei fatto la tua pubblicità bel furbacchione, mannaggia, questi italiani sono proprio furbacchioni. Il popolo italiano è un popolo di furbacchioni. Però, insomma, c'è stata la possibilità e lui ha sfruttato al massimo la mediaticità di quel ristorante fronte Wembley. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.